E ragazzi io sono Feriniti e io sono Steph e quest'oggi riaggiamo ai gaccia life su di noi Ok su di noi che poi sono video dove però utilizzo un'applicazione, è un'applicazione? È un'applicazione in cui allora da quello che mi sembra di aver capito perché non la conosco bene Tu ti crei la scena? Crei il personaggio, crei le scene quindi ti puoi fare delle vere e proprie storielle insomma Quindi ho trovato quelle su di noi ovviamente Steph e mi è sembrato carino guardarle insieme Posso fare? Cioè devo dire una cosa che comunque su YouTube l'ho trovata un'infinità incredibile però purtroppo molte erano con le canzoni Quindi facevano tutte le scenette a tema di una canzone che purtroppo non le puoi far vedere Quindi dovete togliere le canzoni stai dicendo? Eh no perché se le fai vedere poi con le canzoni ti danno il copyright che manco 5 minute craft Quindi fai senza canzoni No io ho preso delle storielle ovviamente togliendo anche le canzoni di base che sono staccate da delle canzoni Ok E volevo dire una cosa ah sì figli? In uno c'è ma era simpatico e quindi ho riuscito di tenerlo Tradimenti strani? No sono tutte carine Steph Perché Steph è allergico a questi tipi di cose quindi devo selezionare quelle che mi sono sembrate le più carine Mi fido di te Puoi partire Sei tu? Sì sono io Ok Questo è il mio personaggio Guarda com'è anima le scelte Stai cadendo? Sono molto carini No sto correndo credo Se ne va Me ne vado Vado da te Sono io Piango Perché sto facendo le smorfie? Non ho la più fallita idea Ok Stiamo parlando e penso che a sto punto io sono uscita Ah è poco realistico Ferezi è già troppo felice La mattina Cioè 10 secondi con quella faccia è già troppo Esatto Ok Dove sta andando? Penso che sto uscendo Ah no Sta andando nella camera Ah mi sto trasformando Mi sono confuso Una trasformazione Cioè pensavo che stessi per cucinare Che fosse Che gli ho preparato un po' di tempo fa Quindi non mi ricordo bene Pensavo se tipo cucina Ma lo sanno che io non cucinerei mai E che al massimo mi metto a fare qualcosa Steph e finisco all'inferno Ma ti fanno combinare Ah ho creato tipo la dimensione con i diamanti credo No credo che sia andata dove c'era un diamante Esatto sì Bisogna ovviamente cercare di capirli Perché poi ognuno gli dà l'interno Il mago ho chiamato Ci sono tutte le cose che mi piacciono I lucky block che a me non piacciono Ma la TNT mi piace Capito? Qua sto accendendo la TNT Ok Arancia Guarda arancia Carino Qua stiamo litigando credo E io richiamo il mago E rivedo altri animali Mi sto confondendo Scribo il punto io Sono un po' tutte le cose Era pieno Non ti ricordo Sono un po' delle diverse scene Steph Che sono successe nei nostri video Fere arrabbiata Come tutti i video che ti urlo contro E io che piango Soldi Vedi che c'è tutto quello che ci piace Fere Questa è un curriculum terribile per te Cioè dovresti capire quanto fessi Io se dovessi andare tipo A farmi assumere un'azienda A presentare questo video Tipo questo è tutto quello che io sono Guardatelo poi decidi Neanche porto un curriculum Non andai direttamente a fare Il colloquio Il panda Anche tu con tutti i nostri animaletti La pizza Adesso tocca a te Vedi Sono tutte le cose che ti piacciono Perché piango ogni volta però Perché sei caduto Il bambù Il bambù così è bellissimo Questo è poco realistico Non è vero Tipo su animal crossing Mi ha regalato un panda Quindi poteva essere più o meno La scena È vero Però loro non lo sanno Esatto Cosa stiamo facendo adesso Non lo so Adesso semplicemente io felice Ok Che secondo me sto facendo Un piano per distruggerti O qualcosa del genere Non sembra Ha uscito tutte le scenette Guarda che c'è un montaggio incredibile Steph Falle tutte queste cose Vedi che sono frame per frame È difficilissimo secondo me Non so ma io avevo bisogno Di dialoghi In alcuni ci sono i dialoghi Perché sono con Ti sei truccato Vedi questa è la figlia Però è carina Perché questa scena è carina È praticamente il mix Tra noi due Vedi figlia Penso che sei uscita da scuola Con i criceti E fa tutte le cose Che poi piacciono anche a noi Vedi col bambù La scuola col bambù Esatto Con i soldi Mi sembra giusto Mamma mia che figlia terribile Spaventata da serpente Da serpenti Ma c'è un altro genere Quei serpenti Era la prima Perché magari ce l'avevo Ma non lo vedevo dal microfono Eh può essere Può essere Perché piangiamo tutto il tempo Basta Perché secondo me siamo felici Non stiamo piangendo Perché siamo tristi Tu quando hai visto la pizzeri Sei felice Stavi piangendo perché sei felice Capito Può essere No perché sei triste È una bella interpretazione E questa è la famiglia Che non esisterà mai Perché sarebbe un figlio terribile Così a scuola con i soldi Col bambù Vabbè dipende Se i gatti contano Se i gatti contano Allora vai Qua ci sono i dialoghi Che bella giornata Già Questo è bellissimo Allora pronti a morire Va bene Indietro Ferri Ci penso io a questo buffone Mi piace Vai combattimento Questo mi piace Subito ha vincente Questo è bello Guarda come ha vincente Ma sono stato colpito? Sì Penso di sì perché sei scarso Penso che sia Sono morto Sei morto Vabbè è realistico Non posso dire nulla Dipende Su Fortnite non lo sarebbe Magari in altri giochi sì Oh no E Steph si accascia a terra Sta dabbando Sì Cioè sta dabbando Perché ha vinto Oh è un cattivo alla moda Dabba pure Ho fatto l'errore di dabbare Ho dabbato sì Sì se qua faranno Bloccheranno il video Faranno gli screen Va bene Io non mi vergogno Di dabbare No No per niente Adesso Sono a posto con me stessa Adesso dabberai per sempre Sono a posto con me stessa Vai Io sono entrata in rage Come ho potuto farmi Dovremmo interpretarli Steph I dialoghi Se l'hai già fatta sotto Hai visto Se l'hai già fatta sotto Steph Hai spawnato due spade Colpa Ho spawnato poteri Spade E lì Ecco Vabbè Oh no Anche lui Ma è vivo No Più o meno Non mi sembra che stia tanto bene E ora piange Esatto Perché Steph è morto Credo che su Guess Alive Per forza Life Qualcuno piange per forza Sono spawnato Eh cosa E tu cos'è successo Perché ovviamente ti si dimentica Perché c'è un tizio sul pavimento E questo finisce così E io ho adorato il fatto che finisse con Eh sapessi Sì Cioè non è un po' artistica Ti lascia Perché ti lascia esatto Perché ti lascia esatto un'apertura Eventualmente ad altri tipi di storie Poi con questo Eh sapessi Tu non saprei mai Ma in realtà è successo quello che è successo E ho spawnato un sacco di poteri Bello Mi è piaciuto molto Bella regia C'è una con le spade È un tipo a terra E vabbè Tu non l'hai capito Perché sei un po' tonto Ma Vabbè E quindi eh Sapessi Era ancora assurdito Sapessi cosa è successo Sapessi Allora Dove mi hai portato Camille Che fa casino in casa Avete rotto il green screen Questo ci sta È plausibile Ah è tutte scenette queste Scusate Su questo video C'è senza webcam Perché abbiamo rotto il green screen Dove mi hai portato G-Step Quindi altra giornata Nino Prende Nino Lo porta fuori dalla stanza Più o meno È quello che succede In tutti i nostri È successo da poco Ma non era family friendly Diciamo la scena Non dire che sei brutto È Steph Che poi si pensano Chissà che cosa Nino Stava facendo il DJ Con il mixer Allora L'ha spostato Ogni 15 secondi Te lo ricordi? Sì Siamo in mare Steph ha provato A notare della lava E sei morto E mi ha mangiato uno squalo Annegata Perfetto Ti sarebbe piaciuto No per niente Dove hai portato Tu t'ha sudato Perché non le posso più Morti Morti Tutti e due Ma neanche avevamo iniziato il video E lei sta a Camille che si straiava Io sto di nuovo in acqua Non ho capito perché Tu sei di nuovo nella lava Perché siamo sfiniti E penso che praticamente Continuiamo a teletrasportarci Qualcosa del genere C'era il dab di Camille Bene basta Oh se dabba capito Dov'è Camille Vieni vieni dabba dabba Vieni Facciamo fare Camille vieni Rega non ti voglio tirare Ecco fatto Allora rendiamo l'arrestico Scusa amore Non lo volevo fare Scusa Era per il video Dovevi dabbare Come la sceletta Ciao occhioni dolci Avete finito di pestarvi Prossimo Allora Questi sono È la creazione Dei nostri personaggi Quindi L'ho messo Perché ho detto Vediamo se ci piace Ok Ok Nino continua a trottolare Così vediamo anche un po' Come funziona l'app Io ho detto Vediamo la scelta Tutte le cose Allora Devi dirci se ti vestiresti così Eh no Ok Già i pantaloncini sono troppo corti Per quanto mi riguarda Nino ma stai combattendo da solo E scappa Ma cosa mi agoni Vai raggiungilo Questo sei tu Ok Beh il mio è carino Sì 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 Mi piace Ci sta Cioè quel ciuffo mi durerebbe 30 secondi Ma più o meno è come se adesso Con la quarantena Steph Quindi un po' No sì però non mi rimane Perché ho i capelli troppo fini io Troppo spettinati Però è bello che visita da ninja Carino Sta facendo carino Guarda quanti vestiti ci sono comunque Cioè se io mi mettessi a creare un personaggio Ci mettessi sei mesi No quattro ore Proprio quattro ore è sicuro Sì Sono a live intera Solo Dio che crea un personaggio Non so se si potevano vedere i messaggi Però vabbè Un'arma Un'arma No il joystick Ah e queste come fanno per le stanze Sì fanno anche le stanze Infatti sta facendo la nostra stanza Con la nostra postazione Molto carino Quella disordinata è la tua Esatto sì È realistica come cosa Ok Che vuole mettere al centro? Ah un'altra scrivania per registrare Videocamere Bellina come la sto reddando però I vicetti Carino È molto carino comunque È molto carina come app alla fine Io la conoscevo poco Comunque era davvero la mia postazione quella Ti puoi anche sedere e fare le scenette Bellina sta roba Steph Molto carino Ok Bello 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 Mi è piaciuto Mi è piaciuto Noi diciamo che ci rappresentava parecchio A parte tra l'altro i pantaloncini Però ma un po' troppo corti Però dai i capelli ci stanno Le cuffie che mi ha messo sono carine Il joystick lo stesso viola è molto carino La cameretta mi piace La promossa Era la promossa Approvato Comunque noi ci fermiamo Fateci sapere E se volete vedere altri video del genere Nel caso fate altri Gazzalife Senza canzoni Perché non le possiamo mettere Ah ovviamente ci tengo anche a dire Che lascio in descrizione I link dei video originali Che hanno Delle persone che hanno fatto questi video Così se vi volete anche iscrivere Il loro canale potete farlo Va bene Va bene Noi ci fermiamo così Questa volta come sempre Con altri video Iscrivetevi al canale Campellino E ci vediamo al prossimo video Ciao ciao Ciao